Il problema di fare Gnammeria risolto e Gnammeria ripartita. La campana a meno 49 e poi punti. Punti al passaggio, punti al passaggio. 851, 816. Subito Elena Rossetto. Andiamo all'esterno. La campana. La margherita mi uccida. Punti al passaggio, punti, punti, punti. 838, 139. 838, 139. Sali un po', che fanno i buchi, sali un po'. La campana, poi da meno 33, credo. Inizieranno anche le eliminazioni, però solamente punti. Alice Barletti all'esterno. Andavanti con un certo piglio e dà un bello strattone al gruppo che si allunga. Punti al passaggio, punti, punti, punti. 142, 139. 142, 139. Sali un po', sali un po'. Giorda Corsini in terza posizione. Elena Rossetto al giro della campana. Torna davanti. Rossetto, Saroni, Marletti, Meucci. Prima e quattro. E poi Giorda Corsini. Subito le migliori in FQ. Nella finale diventa punti, 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 punti. 851, 838. Salta la prima eliminazione, pertanto la prima eliminazione sarà a meno 31. Prima eliminazione a meno 31. Punti, 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 punti. 142, 851. Occhio ai buchi! Sì, ma quelle tirate qua non vanno bene. Deve passare quelle lì che fanno il buco. Campana di meno 39. Campana di meno 39 è quella che ha appena suonata. E al passaggio punti di meno 38. Punti di meno 38. Punti, punti, punti. 142, 140. Punti, punti, punti. 142, 140. Va bene, va bene! Va bene! Ma lì c'è Mabletti davanti, adesso chiesa Roni che... Questa è la campana di meno 37. Ma lì c'è Mabletti davanti, adesso chiesa Roni che... è la prima eliminazione a meno 29. Eh, muore! C'è troppa aria per tirare. Perché si è fatto proprio quel crollo... 838, 817. Ci prova, ci prova lei, guarda! Rossetto, Meucci, quando suona la campana di meno 35. Anzi, ora sono Rossetto e Corsini. Dai, dai, che recuperate! Punti di meno 34. 851, 816. Sotto, dai, sotto! Campana di meno 33, al prossimo passaggio ci saranno i punti. grazie. La prima eliminazione a meno 19. Prima eliminazione a meno 19. Qui sono i punti di meno 32. 839, 851. Meucci Rossetto, Martina Mabletti. e qui sono i punti di meno 30 punti 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 142 816 la campana di meno 29 respira attaccati qua 851 142 perché c'è quel bimbo con il quale giocava la campana di meno 27 Elena Rossetto che forza il ritmo poi Alice Marletti Giorgia Corsini Margherita Meucci e Ilaria Montani nelle prime posizioni poi Sofia Saurani ci sono i punti di meno 26 punti 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 851 142 la campana di meno 25 Sofia Saurani si produce in un allungo Alice Marletti Elena Rossetto trovano a risalire ed è La Rossetto che si lancia in sedimento sono i punti di meno 24 838 851 campana di meno 23 per la testa della corsa Sofia Saurani Giorda Corsini Magherita Meucci Elena Rossetto Alice Marletti Gaia Tedeschi 816 838 non so non sono sicura di averlo in memoria devi digitare brava Elena va bene così va bene così va bene così acchia acchia con i punti di meno 20 851 816 la prima eliminazione sarà a meno 11 meno 11 816 sempre Rosetto Corsini Savani Meucci Valdetti poi tedeschi ronzani sono i punti di meno 18 sono punti 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 point 816 è venuto brava Elena è brava così 851 816 e Meucci all'esterno con la Urzani quando suonerà la campana di meno 17 Meucci e Runtani Rossetto poi Marletti tedeschi la prima eliminazione sarà a meno 11 139 140 prima eliminazione a meno 9 la campana di meno 15 per la testa della corsa sono rimaste in 8 adesso sono i punti di meno 14 per la testa della corsa qua 140 851 l'alice marletti che si lancia quando il passaggio perché avranno 11 g alla fine infatti l'alice marletti non buona 11 per la testa di salone questo potrebbe essere l'azione decisiva al passaggio punti di meno 18 punti di meno 12 punti 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 142 851 quindi eliminazione a meno 9 ci sono i punti di meno 10 punti 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 851 142 eliminazione di meno 9 eliminazione di meno 9 eliminazione in corso 849 eliminata punti di meno 9 851 142 di meno 8 ovviamente hanno di meno 8 i punti 1 6 eliminazione eliminazione è in corso eliminazione eliminazione in corso 815 eliminata punti 838 851 punti di meno 4 142 851 eliminazione in corso 805 eliminata 805 fermarsi punti 116 139 l'ultimo giro per la testa della corsa 798 eliminata 798 eliminata 798 eliminata l'ultimo giro per la testa della corsa 5 Grazie!